Non stiamo nel paese delle favole, qui c'è una questione semplice, la sostenibilità dei flussi migratori così con un sistema come organizzato che non è in grado di distinguere, non dico tra chi ha diritto ad essere profugo e rifugiato, tra chi non è a diritto in due anni, perché questo avviene, ma addirittura adesso arriviamo con l'infiltrazione degli 007 per trovare gli jd-sti tra gli immigrati. Cioè noi diciamo da anni, attenzione, perché c'è una non gestione, una non gestione di questa situazione. Adesso questi se ne vengono fuori con gli 007, a me francamente fa specie, perché qui si tratta di gestire i flussi dal punto di partenza, non quando sono entrati in Europa, perché quando poi le persone sono qui e vengono messe in albergo e si impiega due anni per definire se uno ha diritto ad essere riconosciuto come profugo e a restare in Europa, ovvero se è semplicemente un disoccupato straniero e va rispedito al suo paese, beh questo non è un sistema in grado di reggere alla grande pressione che sta arrivando. Lo scorso anno erano 170 rotti mila i clandestini che sono sbarcati in Italia, quest'anno se ne prevedono più del doppio. A fronte di questo non valgono nulla le parole della ex ministra Chienge, che in questo momento in Europa dovrebbe darci anche una visione un po' più concreta, perché l'unica cosa che sta facendo l'Europa è dire 250 mila euro di punizione, di multa a chi non si prende i profughi. Però non dicono che la Germania l'anno scorso se ne è presi 30, 30, non stiamo dicendo 3 mila, 300 mila o 30, 30. Allora a fronte di questo va bene fare tutte le provocazioni, va bene fare anche il perbenismo, però ci vuole concretezza. Il sistema europeo non sta gestendo la questione profughi, non la sta gestendo in termini politici esteri, non la sta gestendo in capacità di affrontare il problema come quantità e sostegno economico. Le ricordo una cosa, poi mi taccio, l'Italia spende 3 miliardi di euro per mantenere le persone in albergo, vogliamo spendere questi soldi al loro paese per mantenermi in grado di rimanere là da dove provengono, perché questo sarebbe un serio diritto alle persone, che hanno anche il diritto a non emigrare da dove vengono, non ad entrare e invadere l'Europa. Candiani però, grazie, che è anche, prego. E a mio avviso dovremmo comunque a un certo punto uscire da questa propaganda che non è una lotta, una questione personale. Non è propaganda, è cosa concreta. Guardi, lei vada a fare un giro nelle periferie delle città, trova gli spandati, non trova i profughi. Guardi, lei vada a fare un giro.